presentati Ferdi, Iliasi, 22 anni, Verona hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? no, però mi piacerebbe il tuo ultimo status di Facebook? JWow, quanto figa che sei ovvero riferito a quella di Jersey Shore se ne avessi la possibilità, cosa ti piacerebbe fare? ma in questo momento probabilmente cantare Fai un appello al pubblico per farti votare oh ragazzi votatemi eh, mi raccomando